oh finalmente è arrivato ottobre 2020 ci siamo è siamo in pieno mese missionario verso la giornata missionario 2020 che sarà o 18 ottobre 2020 e fin quali mie certezze ci sono tutte ma esattamente cosa vorrebbe dire sono un po confuso prima di tutto il tema il tema di quest'anno è il tessitore di fraternità a ricordarci come tutti siamo chiamati ad essere testimoni dell'amor di dio attraverso una quotidianità fatta di accoglienza e vita fraterna e cosa posso fare in questo mese la chiesa prega in modo particolare per la sua vocazione missionaria missionari e le missionari sul sito missio italia punto it sono messi a disposizione dei momenti pensati apposta per questo mese missionario però se nella tua parrocchia esistono già dei momenti di preghiera beh ricordati di pregare anche per la missione e poi parla di missione i giovani del centro missionario di cesano sono sempre a tua disposizione per incontri attività e testimonianze sulla missione il servizio e la missionarità seguici e contattaci sui nostri social e il nostro sito www ilviso.it su instagram ci trovi come cmd fano e su facebook centro missionario cesano fano e la giornata missionaria giornata missionaria sarà domenica 18 ottobre in tutto il mondo pregheremo per la missione durante la celebrazione eucaristica aperte raccolte durante la missa saranno inoltre destinati a sostenere i missionari e le missionarie che operano in giro per il mondo e nel pomeriggio ci ritroveremo insieme nel duomo di cagli con il nostro vescovo il quale darà il mandato ai catechisti e agli operatori pastorali che sono veri e propri missionari nelle nostre comunità locali questi sono solo alcuni spunti sul sito missio italia.it trovate il messaggio del papa e il materiale preparato per vivere la giornata missionaria il mese missionario nelle nostre parrocchie buona giornata missionaria a tutti dal centro missionario diocesano iscriviti al nostrocriviti al nostro canale